Particle Type Particle Type definisce la tipologia delle particles utilizzate e la metodologia di mappatura su di esse. Possiamo scegliere tra quattro tipologie differenti, anche se in realtà in questo caso ne vediamo soltanto tre. La quarta è attivabile con un altro sistema di emettitore. Con relative opzioni di base abbiamo Standard Particles, che selezionando da un gruppo sottostante possiamo scegliere tra Triangle, Cube, Special, Facing, Constant, Tetra, Six Point e Sphere. Alcune di queste sono di immediata lettura, nel senso che riusciamo a capire subito quale forma avranno le nostre particles. Altre invece magari sono un pochino più particolari e vedremo prossimamente che cosa vuol dire e come poterle utilizzare. Abbiamo Meta Particles, definite anche Metables o Blobly Object, sono una tipologia implicita di modellazione. Per essere più diretti, è una caratteristica che, applicata alle particles, consente di impostare una forza di attrazione tra di loro, permettendo di formare una superficie con collegamenti appunto tra loro. Questa tipologia è molto utile per simulare effetti di acqua, spruzzi o similmercurio. Ed era, quando ancora non c'erano software come RealFlow, Nayad o Glad 3D, erano delle buone soluzioni a questi software di idrodinamica. Rimangono ancora tutt'oggi, per alcuni casi abbastanza semplici, delle buone alternative. Abbiamo Instance Geometry. Instance Geometry consente di utilizzare un oggetto come istanza, simulando l'effetto di emissione dello stesso. Si possono associare oggetti o gruppi. Questa tipologia può essere usata per controllare e generare sistemi di popolazioni, masse o flussi alternativi, più conosciuti in altri software con il nome di CROV, FLOX o FLOW. Una volta scelta la tipologia, possiamo accedere ai vari sottogruppi. Infatti notiamo che, selezionando le differenti proprietà, attiviamo o disattiviamo i relativi gruppi, che vedremo prossimamente con degli esempi pratici. Abbiamo a disposizione una voce che rimane comune a tutti, che riguarda il materiale applicato. Melt and Mapping and Source Notiamo bene che, se utilizziamo la modalità Instance Geometry, come attiva in questo momento, le coordinate di mappatura UV saranno considerate in base all'oggetto madre, quindi all'oggetto che si prende di riferimento. In alternativa, se andiamo a utilizzare un'altra tipologia di particles, ad esempio standard, possiamo utilizzare le varie modalità. Emitter Fit Planner considererà la mappatura planare in modalità Fit, quindi ogni particles avrà una mappatura planare considerata grande quanto la particella, quanto se stessa. Invece Time applicherà la mappatura in base al tempo. Distance applicherà la mappatura in base alla distanza dal centro dell'origine dell'emettitore, utilizzando un'unità di misura del sistema, in questo caso cm. A² Grazie a tutti.